Salve e bentornati! Questa è la seconda e ultima parte del tutorial dedicato alla realizzazione di una cassettiera in cartone riciclato. Nello specifico vedremo come realizzare la mensola che nella volta precedente ho diventato alveolata, che invece adesso chiamerò semplicemente rinforzata. Quindi vedremo come realizzare le due mensole rinforzate, poi vedremo come fare le testate dei cassetti e infine vedremo come mettere tutto quanto assieme. Il link della prima parte lo trovate sotto in descrizione. Al punto in cui sono arrivato ho tutte le misure che servono e posso dimensionare le parti che ancora mancano, testate e mensole rinforzate. Segnalo un errore nella prima parte del tutorial. Al minuto 10 e 13 dico che la larghezza degli stecchini di gelato è di un centimetro e mezzo. Nella realtà misurano soltanto un centimetro. Di conseguenza la larghezza delle guide dei cassetti è di un centimetro e non di un centimetro e mezzo. Per ricavare la larghezza della cassettiera LC non resta che fare questo calcolo. 20 centimetri è la larghezza dei cassetti. Ogni montante ha uno spessore di 1,2 centimetri, che moltiplicato per 2 dà 2,4 centimetri. Poi ci sono le due guide da un centimetro ciascuna, quindi sono altri due centimetri da sommare. Infine aggiungo 4 millimetri di tolleranza. Dunque LC vale 24,8 centimetri. I 4 millimetri in più servono per far scorrere i cassetti senza intoppi e sfregamenti. Due millimetri per parte, 2,2,4 sono più che sufficienti per tener conto delle eventuali imprecisioni che sempre possono esserci. E tuttavia meglio un cassetto che sta un po' largo piuttosto che un cassetto che non entra nella cassettiera. Le mensole rinforzate sono due. Una in sommità M1 e una alla base M2. Entrambe sono alte 5 centimetri, ma come vedete dai disegni non sono identiche. M1 è più grande e appoggia completamente sui montanti, mentre M2 è inserita tra i due montanti. Inoltre non sporgia sulla parte frontale della cassettiera. Farle diverse è stata una scelta di carattere pratico o costruttivo. Con la mensola M2 inserita tra i due montanti ho potuto usare un tenditore a nastro, mentre la mensola M1, per come è fatta, funziona un po' come un coperchio e aiuta molto il montaggio provvisorio della cassettiera come vedremo più avanti. Le mensole non sono altro che dei semplici parallelepipedi alti 5 centimetri e si costruiscono molto facilmente con pochi pezzi di cartone. Per renderle più resistenti e soprattutto meno deformabili avranno al loro interno una nervatura fatta sempre in cartone. Ecco le due mensole finite. Tutte le parti sono state incollate con colla vinilica e colla a caldo. Prima di procedere oltre fare un rapido assemblaggio con tutto quello che è stato realizzato fino adesso può essere una buona idea. Ad esempio per verificare la correttezza delle misure e se tutto funziona come deve. Preso dal mondo della falegnameria il tenditore a nastro è uno strumento che può essere particolarmente utile anche con il cartone. Il prossimo passo consiste nella realizzazione delle testate dei cassetti. Saranno tutte larghe 24,8 centimetri e spesse 1,5 centimetri ma ciascuna avrà altezza diversa. Ogni testata viene incollata al cassetto in modo asimmetrico lasciando in alto uno spazio di 1,5 centimetri e sotto invece uno spazio di solo mezzo centimetro. Le testate dei cassetti si potrebbero descrivere come dei sandwich fatti con il cartone. Una sorta di rivestimento esterno che contiene un riempimento. Per ottenere questo risultato è necessario un pezzo di cartone con un'altezza pari a circa il doppio di quello della testata. Quindi in base ai disegni che vedete relativi al cassetto N1 per ottenere una testata alta 10,5 centimetri e larga 24,8 serve un pezzo di 24,8 per 20 centimetri con la direzione delle onde indicata. Trovato il pezzo adatto lo taglio secondo le misure richieste. Quindi prendo una matita e traccio sul cartone le linee di piega indicate nel disegno. Fare le quattro pieghe è un'operazione che richiede una certa attenzione. Si parte con un taglio profondo quanto basta eseguito con un taglierino. Per semplificare l'operazione consiglio cartone a singola onda. L'onda del cartone va tagliata senza però mai arrivare allo strato più esterno. Fatto il taglio inizio a piegare lentamente il pezzo senza forzare. Devo riuscire a piegarlo di 180 gradi. Se la piega risulta difficoltosa e non riesce significa che il taglio non è stato sufficientemente profondo e bisogna riprendere in mano il taglierino. L'obiettivo finale è piegare il cartone di 90 gradi ma sul lato opposto. Però lo spessore con le sue onde lo impedisce. L'unico modo per farlo è eliminare una certa quantità di cartone. Piego il cartone lungo il taglio di 180 gradi. Con una raspa poco per volta e facendo molta attenzione crea un profilo a 45 gradi su tutta la lunghezza del pezzo. Prima da una parte e poi anche dall'altra. Dopo aver raspato per un po' vedo se la piega di 90 gradi riesce. Se l'angolo raggiunto è inferiore a 90 gradi significa che bisogna raspare ancora dove serve. Attenzione con la raspa. Se danneggiate lo strato di carta lungo la piega sul lato opposto dovrete buttare via il pezzo e rifare tutto. Questa operazione va ripetuta anche sulle altre tre pieghe in modo da ottenere la forma della testata. Nel frattempo ho già preparato il pezzo di cartone con lo spessore adatto da inserire all'interno del sandwich. Conviene segnare già adesso i due fori per far passare la maniglia. Per farlo mi servo di un punteruolo. Incollo tutto con colla vinilica. Un pezzo alla volta. Prima metto il riempimento. Aspetto che la colla faccia presa. Poi chiudo il sandwich. Tengo la testata sotto peso fino a quando non sono certo che la colla si sia completamente asciugata. Se ho fatto un buon lavoro le pieghe devono avere un angolo di 90 gradi. Quello che adesso manca è la maniglia. Tutte le maniglie vengono realizzate con della banale corda. Questa che sto usando ha un diametro di circa 7-8 millimetri. Con delle forbici taglio tre pezzi lunghi 20 centimetri e su ciascuno faccio un segno a 3 centimetri di distanza dalla fine. Questi segni mi saranno utili in seguito come riferimento. Metto dello scotch alle estremità delle corde per evitare che si sfilaccino e per poterli inserire più agevolmente nei fori della testata. Lo scotch naturalmente poi verrà rimosso. La posizione dei fori sulla testata è già stata assegnata. Non resta che portarli alla giusta dimensione. Per farlo mi serve di un banale stecchino per spiedini prima e di un cacciavite dopo. L'idea è di allargare i fori poco per volta, passando da parte a parte. Come potete vedere i fori risultano perfetti e precisi, senza sbavatura. Con i fori larghi quanto basta passo ad inserire la maniglia. Per entrambe le estremità faccio sporgere la corda fino al segno fatto con il panarello azzurro. Tolgo lo scotch e inizio a sfilacciare la corda. La corda sfilacciata non solo fa meno spessore, ma garantisce anche una migliore attenuta della maniglia. Per fissarla alla testata uso della colla a caldo su ogni singolo filo. I fili vengono allargati e distribuiti nello spazio disponibile. Nella parte posteriore della testata sono stati aggiunti ai lati dei piccoli pezzi di cartone per dare ai contorni continuità di spessore. Infine non resta che bordare. Per questa testata di colore bianco uso strisce di carta da 200 grammi al metro quadrato, mentre per le altre ho usato il cartoncino delle buste Amazon. Ed ecco tutte le tre testate pronte. La N1, la N2 e la N3. Con le misure alla mano, non resta che incollarle ai rispettivi cassetti con colla vinidica. Con tutto quello che ho realizzato fino ad ora, posso iniziare a mettere insieme alcune cose. L'aspetto dei montanti è stato migliorato, applicando una striscia di cartoncino che ne nasconde il bordo grezzo. Seguendo le misure del progetto, ho segnato con precisione a matita la posizione delle guide su cui scorreranno i cassetti. Sono previste tre guide su ciascun montante. Fate attenzione ad incollarli dalla parte giusta. Gli stecchini di legno devono stare in alto e non sotto. Preparo un pezzo di cartone da mettere sul lato posteriore della cassettiera. Anche questo lo ottengo incollando assieme più parti. Le sue misure sono 22,4 x 59 centimetri. La direzione delle onde deve essere quella indicata nel disegno. Questo pezzo non svolge alcune funzioni portante. Deve invece mantenere la forma della cassettiera e impedire oscillazioni orizzontali. Piccola variazione alla mensola M2. Invece di chiuderla definitivamente in un blocco unico, ho deciso di fare un coperchio rimovibile, per sfruttare lo spazio disponibile all'interno, che può sempre essere utile per metterci qualcosa. Continuo l'assemblaggio incollando la mensola M2 ai due montanti con colla vinilica. Metto la colla ai lati della mensola e anche alla base dei montanti. Per tenere uniti i pezzi, aspettando che la colla faccia presa e asciughi, uso il tenditore a nastro. Per ridurre e contenere queste oscillazioni, come se detto, incollo il pezzo posteriore da 22,4 x 59 centimetri. Va fissato ai due montanti, e anche alla mensola in basso. Per applicare questo elemento, conviene usare la pistola a caldo, perché è necessario afforzare i montanti ad adattarsi alla forma del pezzo il più possibile. Completo la cassettiera incollando la mensola superiore M1. Anche questa, come la M2, va incollata sia ai montanti che al pezzo posteriore con colla vinilica. Se nella parte posteriore i montanti vengono tenuti in posizione dal pannello di chiusura, sulla parte frontale non c'è nulla che li trattenga e potrebbero, soprattutto nella zona centrale, cedere un po', curvando o verso l'interno o all'esterno. Per evitare che questo succeda, metto un pezzo di cartone di 22,4 x 19 centimetri con direzione dell'onda orizzontale, in questo punto, dove non darà alcun fastidio. Nascosto dalla testata, infatti, non ostacolerà in nessun modo lo scorrimento dei cassetti. Come ho detto, le due mensole M1 e M2 non sono identiche e per allineare il profilo di M2 a quello di M1, devo realizzare una sorta di frontalino. Il frontalino lo costruisco con la stessa tecnica vista per le testate, solo che qui le maniglie non servono. Il pezzo si completa con la bordatura su entrambi i lati. Con colla vinilica lo unisco alla mensola M2. Il frontalino era l'ultimo pezzo che mancava per completare la cassettiera, che adesso è finita e pronta all'uso. E infatti già l'ho messa al posto suo, la potete vederla alle mie spalle. Adesso con una serie di clip e immagini vi faccio vedere il risultato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nel progetto ho messo molte misure così per completezza e per rendere tutto molto più chiaro, però dubito fortemente che qualcuno di voi realizzerà una cassettiera esattamente identica a quella che ho fatto io. Ma la cosa bella di fare le cose da sé è proprio che uno sceglie le dimensioni che vuole e che gli servono. Bene, vi saluto e ci vediamo alla prossima occasione.